Stiamo smantellando il tuo diritto alla salute, il nostro diritto alla salute e il nostro servizio sanitario pubblico. Tagli continui al servizio sanitario nazionale mettono a rischio l'accessibilità reale alle cure, la loro qualità e la loro sicurezza. Noi non staremo a guardare e nemmeno tu. Sostieni la nostra campagna, sono malato anch'io, la mia salute è un bene di tutti. Ti aspettiamo e segui le nostre tappe sul nostro sito www.cittadinanzaattiva.it